Allora, iniziamo queste nostre tre ore, meno il tempo che continuano a rubarci sulla pausa. Volevo solo ricordarvi, prima di riprendere in mano l'argomento sui cicli, il messaggio che avevo condiviso sul gruppo dell'attivazione dei tutorati di informatica. Quindi da questa settimana, dal 6 novembre, quindi da questa settimana in avanti, tutte le settimane saranno disponibili dei ragazzi più grandi di voi per assistervi, per darvi una mano nella preparazione, nel fare esercizi, nel rispondere a domande, eccetera, eccetera. Abbiamo 3, 6, 9, 12 ore alla settimana disponibili, che sono riportate in questa tabella. Tendenzialmente il nostro corso dovrebbe andare a finire nello slot giallo, che sono indirizzati agli studenti di questo blocco alfabetico in cui siete divisi, ma non è vincolante, ok? Quindi, diciamo così, a priori se riusciamo a dividerci grosso modo sulla base dei blocchi dei corsi, le cose sono più bilanciate, però se per motivi vari volete anche, diciamo così, presentarvi presso uno degli altri tutorati degli altri colori, la cosa è possibile, ok? Vi invito a sfruttare questa possibilità, ok? Anche perché a questo punto siete tra studenti con altri studenti, diciamo così, con cui non c'è nessun tipo di formalità o soggezione e quindi soprattutto se avete delle difficoltà, se trovate qualche, diciamo così, ostacolo, sappiate che ogni settimana almeno tre ore ci sono a disposizione, sono in aula, in presenza, quindi è anche facile mostrare, ecco l'idea, il suggerimento di andare portando le cose che non vi vengono, portando i dubbi, no? Poi normalmente i tutori, se nessuno ha domande, se nessuno richiede qualche cosa, fanno loro esercizi, però andare per vedere un tutore a fare esercizi serve abbastanza a poco, molto meno rispetto che non invece andare a portare i propri dubbi e discuterli in un piccolo gruppo e in un setting, diciamo così, informale e diretto, ok? Di solito i tutorati tendono a essere purtroppo più sfruttati verso la fine del corso, quando si avvicina l'esame, secondo me è un errore, no? Ricardare troppo quando uno incontra delle difficoltà perché questa è la tipica materia che non si impara in una settimana, ma si impara poco per volta, diciamo così, meditandola, non è pesante come altre materie forse, ma richiede un certo tipo di continuità, ok? Quindi veramente approfittatene e cercate di sfruttarli, poi noi continueremo come corso a mettere sempre a disposizione noi, telegram, laboratori, eccetera, per cercare di aiutarvi in tutti i modi, ma soprattutto quelli che si trovano un pochino più in difficoltà, sfruttate questa possibilità. Qui c'è scritto fino al 19 gennaio, che è grossomodo la fine del semestre, poi ci sarà un calendario diverso quando si avvicinerà l'esame, quindi ci sono delle date in più in prossimità degli esami, di cui non chiedetemi la data perché non la so ancora, però questo è il calendario durante le settimane di corso e poi invece quando finiranno le lezioni, si entrerà in sessione d'esame, vi daremo poi informazioni su un calendario diverso, chiaramente. Ok, fatta questa premessa e questo invito alla partecipazione, oggi parliamo ancora dei cicli, questa settimana qua finiamo ancora questo argomento, tra l'altro ci permetterà anche, con le cose che vediamo oggi di riuscire anche a completare in laboratorio gli esercizi che alcuni dei quali la settimana scorsa non eravamo in grado di fare perché, sapete, con la festa in mezzo abbiamo dovuto un pochino perdere qualche ora, quindi vi avevo detto guardate che sul laboratorio 4 c'erano alcuni esercizi che non sapete ancora fare, oggi potete andare a recuperare anche quelli del 4 prima, diciamo, di iniziare ad affrontare quelli del 5, che di nuovo sono sempre sulla stessa tematica, no? Sono due laboratori che sono sempre su questo tema. Oggi iniziamo a vedere una costrutto diverso, analogo all'while, di fatto alla fine fa la stessa cosa ma la fa in un modo leggermente diverso, no? Che può tornare utile in molte situazioni pratiche, anzi alla fine poi si usa più questo che l'un l'altro, ma conviene, diciamo così, affrontarlo dopo, è un caso particolare, se vogliamo, del ciclo while. L'istruzione si chiama for e non confondiamolo con l'analogo for di altri linguaggi di programmazione perché ovviamente gestisci un ciclo ma lo fai in un modo leggermente diverso. L'istruzione for va a iterare, quindi a costruire delle iterazioni sugli elementi di un contenitore. Questa è la parola che usiamo per la prima volta in questo corso, contenitore. Contenitore che cos'è? È un tipo di variabile che non contenga un solo valore ma contenga una molteplicità di valori. Noi abbiamo già visto un tipo di contenitore che sono le stringhe. Una stringa contiene caratteri, quindi una stringa è un contenitore di caratteri e quindi attraverso un ciclo for è possibile iterare sui valori del contenitore. Nel caso particolare delle stringhe è possibile iterare sui caratteri della stringa. La stringa è un contenitore, i suoi valori cosa sono? Sono i caratteri, attenzione, sono i singoli caratteri e quindi attraverso, se noi abbiamo bisogno, come capitato in qualche esercizio di andare a prendere i caratteri uno a uno e farci qualche cosa, tranquillamente con il ciclo Y si possono fare, imposti l'indice che parte da zero e va avanti, altrimenti usi questo ciclo for che ti va in automatico a selezionare i vari elementi uno per uno. La stringa per ora è l'unico contenitore che conosciamo, poi nelle settimane prossime invece conosceremo altri tipi di contenitore che ci saranno per strutturare, liste, tuple, insieme, dizionari, file, eccetera, sono tutti tipi di dati contenitori che ci permettono di avere dentro e gestire più dati semplici, che abbiamo praticamente finito di lavorare. Quindi se noi volessimo, questo è un ciclo in cui si prende il nome di uno strato americano, o di un qualunque stringa, e si stampano una per riga le singole lettere. Allora questo è quello che faremmo con un ciclo Y. Vado a prendere l'indice I che parte da zero, itero su tutti i valori dell'indice da zero fino all'indice dell'ultimo carattere, che è la lunghezza meno uno, quindi ci vuole il minore stretto e non il minore uguale, e per ogni valore di I, quindi vale zero, andrò a prendere il nome dello stato di zero e sarà la V maiuscola e la stampo. Poi incremento I, vado a prendere il nome dello stato di uno a questo punto, perché I è stato incrementato e prenderò la I minuscola e la stampo e così via. No? Banale, se mi dicono dammi una stringa, stampami le lettere una sotto l'altra, una per riga, faccio questo. Di questo l'operazione vera che devo fare è questa qua, la stampa. Tutto il resto è meccanismo per far sì che questa stampa venga ogni volta con un carattere diverso. Allora, questo meccanismo di creare un indice, iterarlo, controllare che sia fino alla fine, poi andare a estrarre un singolo elemento da una collezione, da un contenitore di elementi, in questo caso una stringa, ecco, tutte queste operazioni di gestione sono, diciamo, svolte in automatico dall'istruzione for. Infatti la stessa cosa si può fare in questo modo. For letter in state name, nome della stringa. Questo ciclo, for è un ciclo, quindi itera, ripete più volte il corpo, che è la stampa della lettera, ma in automatico quello che lui deve fare va a prendere questa variabile che è contenuta nella clausola in. Quindi in deve specificare un contenitore, itera su tutte le lettere all'interno di questa stringa, questo lo leggerai in italiano. Quindi in deve identificare un contenitore, in generale un oggetto iterabile, ma questo è un dettaglio tecnico, e prende uno a uno gli elementi di questo contenitore e li assegna a questa variabile temporanea lettera. Temporanea, diciamo, interna, ci serve solamente qua dentro questa variabile. Quindi la prima iterazione prenderà il primo elemento di state name e lo assegna a lettera. Dentro il corpo del ciclo viene eseguita un'interazione col valore di letter corrispondente al primo elemento. Poi, finita questa iterazione, ritorno a fare la seconda iterazione prendendo l'elemento successivo, ogni volta l'elemento successivo al precedente, quindi sarà la seconda lettera, la terza lettera, eccetera, eccetera. Quindi vedete che in questo caso non ho bisogno, non sto più gestendo la variabile di controllo del ciclo, questa i, che devo mettere a zero perché è il primo carattere, devo controllare con lunghezza perché è l'ultimo carattere, devo incrementare per far andare avanti il ciclo, ecco, questa variabile di controllo diventa nascosta dentro l'istruzione for stessa. Me la fa già lui, e quindi scompare. Addirittura non solo vi la mesisce lui, ma non me la fa nemmeno vedere, nel senso che alla fine mi dà direttamente il valore dell'elemento. Se vogliamo la differenza concettuale è anche che mentre in questo ciclo la variabile di controllo è l'indice i, qua la variabile di controllo è già il, non lo chiamerò neanche variabile di controllo, la variabile che evolve è già il contenuto. Questa lettera non è 0, 1, 2, 3, ma è V, I, R, G. Ok? Qui l'indice non c'è più, anzi poi ci chiederemo come fare a riaverlo se ci serve, perché se ci servisse a un certo punto sapere se questa lettera è la terza o la quarta, non lo sappiamo più, perché non c'è più il valore di I, non ce l'abbiamo. Ma nella maggior parte dei casi non ci serve, quindi va bene così. Quindi in un modo più compatto, quando, e questo è il contesto, quando dobbiamo iterare sugli elementi di un contenitore, esempio, sui caratteri di una stringa, possiamo usare semplicemente il for che mi gestisce tutta la meccanica dell'iterazione e quindi descrivo qual è il contenitore sul cui voglio iterare, come voglio chiamare la variabile che si va a pescare i vari elementi uno per volta e poi fa tutto il for. Devo solo più concentrarmi sul corpo e quindi evito di rischiare anche di sbagliare a, ne so, dimenticarmi un incremento o sbagliare un minore con un minore uguale o altre cose. Ok? Oltre al fatto che risparmio tra righe di codice, ma quello mi interessa meno. La stringa è benedetta un contenitore. Un altro contenitore che non conoscevamo, ma che introduciamo adesso, è un contenitore di numeri. Si chiama range. La funzione range crea un contenitore dei numeri da 0 fino a n-1 se riceve il valore n come parametro. Quindi, se io chiamassi la funzione range di 10, questa crea un elenco dei numeri da 0 fino a 9. Ok? Quindi questo è utile, comodo, da accoppiare con un ciclo for che si aspetta di avere un contenitore. E se io voglio usare un ciclo for semplicemente per contare dei numeri, per contare le iterazioni, fai 10 volte questa cosa, mi serve un contenitore che abbia esattamente 10 elementi. E magari, per comodità aggiuntiva, questi 10 elementi non siano cose a caso, ma siano i numeri da 0 a 9. Così mi servono più facilmente per contare. E quindi si vede molto un costrutto di questo genere che sostituisce un ciclo while nel quale la variabile di controllo sia semplicemente un contatore. L'ha visto già con gli esercizi che abbiamo fatto che la variabile di controllo può essere qualunque cosa e la condizione di controllo può essere anche strana o complicata. Ma in molti casi, in realtà, il ciclo semplicemente gestisce un contatore che si incrementa e deve arrivare fino a un certo limite che magari è una costante o è una variabile che non sta cambiando in quel momento. Allora, in questo caso so già che questa macchinetta qua mi serve per iterare un numero fisso di volte, lo posso condensare in un ciclo for fornendogli un contenitore che contenga esattamente il numero di elementi che mi servono. La funzione range fa questo. Allora, la funzione range con un parametro solo mi dà i valori da 0 a n-1 se ho due parametri ma funziona un po' come il range delle stringhe con lo slicing, no? Con due valori tra parentesi con due punti. Valore iniziale e valore finale. Ma abbiamo capito che in Python la regola è sempre la stessa. Valore iniziale compreso, valore finale escluso. Se il valore iniziale è omesso, sottinteso vale 0. In questo caso qui non ha senso omettere il valore finale perché se ne è ben finito e non avrebbe senso. E quindi, anche qua, quando devo gestire un ciclo di valori che si incrementano è più facile costruire un range e iterare su questo range. Range, dicevo, è semplicemente la lista di numeri. Attenzione solo che questo esempio qua è fatto un po' male, male, a volte serve per attirare attenzione. Questo ciclo fa nove iterazioni, non ne fa dieci, eh? Infatti ho cercato di non dire dieci finora perché parte da 1 e non parte da 0. Quindi, attenzione, non facciamoci fregare del fatto che qui vediamo i minore 10 e allora fa dieci cicli, eh sì, però partendo da 1 ne fa solamente nove. Da 1 a 9. E anche questo range 1-10 parte da 1 compreso e arriva a 10 escluso. Quindi da 1 a 9. Vale sempre la regola che 10-1 fa 9 e quindi a differenza tra la partenza e l'arrivo mi dice il numero di iterazioni che vengono fatte. Infatti, normalmente, qua avremo uno 0, normalmente qua non avremmo un 1 perché lasceremo lo 0 sottinteso. Ok? Quindi questo, semplicemente, non abbiamo nessun concetto nuovo, è sempre un ciclo e questo ciclo iterà su, adesso vediamo qualche esempio, ma lo vediamo fatto a mano. Scusate, su. su qualche Allora, riguardiamo un attimo, no, quello che dicevamo è che se noi scriviamo abbiamo una stringa e proviamo a iterare sui caratteri della stringa avremo un costrutto di questo genere. Ok? E quindi possiamo avere ad esempio il carattere. Questa cosa qua mi stampa uno per volta i singoli caratteri della stringa. Vedete che ogni volta che iterò va a pescare il carattere successivo. In automatico. Quindi è come se lì dentro ci fosse nascosta una variabile che si incrementa. e questo va avanti per conto suo. Anticipo già come poi i problemi che si alteranno fuori che è bene che mentre io sto iterando su un contenitore come nome non vada a cambiare questo contenitore. Non lo vada a modificare. noi dobbiamo pensare che la variabile ch viene aggiornata in automatico dal ciclo for e la variabile nome consideriamola come costante dentro questo ciclo. Ci accorgeremo quando faremo cose un pochino più complicate con le liste che se io cerco di modificare una lista un contenitore mentre lo sto iterando non scoppia nulla ma 90 volte su 100 sarà un baco non funziona come me ne aspetto come mi aspetterei che funzionasse. Ok? Quindi il contenitore su cui stiamo iterando non modifichiamolo. Uno potrebbe chiedersi ma se io qua dentro modifico il nome e ad ogni iterazione ci aggiungo una x quello mi stamperà. Se ogni iterazione ci aggiungo una x ci sono due modi di pensare uno solo giusto. Un modo di pensare è ma lui alla riga 2 ha visto il nome che valeva ciao con 4 lettere e quindi mi stampa queste 4 lettere. L'altro modo di pensare è quello di dire ma questo nome sta aumentando quindi ogni volta che stampo un carattere ne aggiungo uno in fondo. Quindi andrò avanti all'infinito. Scopriamo quale dei due vale. Vale il primo. Non mi stampa tutte le... Alla fine le x le ha messe. Ti faccio print il nome. Alla fine la stringa contiene ciao con i 4 x in fondo. ad ogni interazione ho aggiunto una x ma il contenitore su cui sto iterando è stato fotografato all'inizio dell'interazione. Iterazione Ok? Quindi se lo cambio dentro posso dire non se ne accorge non è vero se ne accorge quello che sto facendo in realtà poiché le stringhe sono immutabili sto creando un'altra stringa separata da quella su cui sta iterando e chiaramente se è un'altra stringa lui non la guarda. Se avessimo altre strutture dati invece le cose si complicano. Tra l'altro visto che mi sono imbarcato in questo esempio se io facessi la stessa cosa con un ciclo while i uguale 0 while i minore di lang di nome print nome di i uguali più 1 commentiamo questo per un attimo quindi questa sarebbe la versione equivalente fatta col ciclo while che sia equivalente lo vediamo perché fa stampa la stessa cosa la differenza chiave è che qua dentro il ciclo uso il carattere nel while dentro il ciclo uso l'indice e quindi se mi serve il carattere devo risalire dall'indice ok se mi serve il carattere devo indicizzare la stringa usando l'indice perché l'indice è ciò che sto facendo avanzare ecco se io per caso qua facessi la stessa cosa nel ciclo while questo sarebbe più pericoloso perché il while effettivamente ogni volta che torna una riga 8 rivaluta questa espressione qui prende il valore corrente di e il valore corrente di nome e quindi fate spazio nei vostri schermi perché stiamo stampando tante x fino a quando non interrompo il programma ne abbiamo stampate qualche chilometro di x quindi non sono esattamente quando sull'esagio è scritto queste due forme sono equivalenti non sono esattamente equivalenti lo sono se faccio la persona diciamo così ben educata e non vado a modificare la condizione le variabili che accompagnano nella condizione del while o del for mentre sto iterando quindi questo prendiamo pure l'abitudine di dire ok sto iterando su qualche cosa e ciò su cui sto iterando non lo tocco è un po' come se capisci se io adesso decidessi di contare quante persone ci sono in aula e voi continuate a spostarvi no? e faccia il casino alla fine no? qualche modo o ne conto qualcuno in meno o qualcuno di troppo ecco qui è la stessa cosa quindi poi è tutto deterministico nel senso che possiamo esattamente capire cosa succede ma spesso è anti-intuitivo e quindi cerchiamo di andare a non metterci nei guai da soli ecco questo per quanto riguarda rimettiamo le cose a posto no? il nostro ciclo for e se io voglio stampare non solamente C, I, A, O ma anche la posizione cioè questo codice mi stampa queste quattro lettere C, I, A, O io voglio scrivere C posizione 0 I posizione 1 A posizione 2 o posizione 3 allora col ciclo while non è un problema commentiamo di nuovo questo riprendiamoci il while togliamo la porcata che abbiamo messo sotto basterà semplicemente dire nome di I virgola I tranquilli no? abbiamo stampato il carattere 3esimo e il valore di I che è proprio la posizione in cui abbiamo estratto quel carattere è l'indice che comanda qua e quindi la posso volare stampare sopra invece l'indice non ce l'ho quindi cosa potrei stampare qui? dovresti stampare anche I? è chiaro che I non esiste qualcuno ha delle idee su come fare a trovare a colare il valore di I che voglio stampare? lui vuole fare find allora questa è una idea che viene in mente frequentemente e non è del tutto sbagliata quindi stiamo iterando su una stringa questa stringa mi dà uno per volta i caratteri mi ha dato la C mi ha dato la I mi ha dato la A la A dove si trova? beh chiediamolo a lei dove ti trovi A? dentro la stringa ciao dove si trova la A? e invece in che posizione si trova? quindi questo funziona tranne 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 quando ho delle parole che contengono più di una volta la stessa lettera per cui se io scrivessi ciao belli chiaramente è più lungo mi dice c'è Iao poi la B è la posizione 4 la seconda B mi dice di nuovo 4 la E è giustamente in posizione 6 le due L sono in posizione 7 e la I me la dà in posizione 1 perché la I finale in realtà lui quando va a fare il find trova già la I in seconda posizione secondo carattere posizione 1 e mira quella e mira quella come posizione ok? quindi non facciamoci ingannare non è che find trova quella che vogliamo noi che abbiamo noi in mente o la prossima per la prossima non sa cosa vuol dire lui ha una stringa ha un carattere mi dice dov'è? trova il primo che trova mi restituisce il primo che trova quindi questo qua non va bene uno perché se ci sono i duplicati fallisce come abbiamo visto due perché lo dico sottovoce se si offende è un po' stupido perché immaginate avere una stringa lunghissima no? devo trovare la z tutte le volte devo cercare la z dov'è? ma io so già dov'è se il carattere precedente era il 7 questo sarà l'8 serve il 75 questo serve il 76 non devo ogni volta andare a cercare no? è come di nuovo se vi chiedi contassi uno ad uno a un certo punto però ogni volta ricomincio dall'inizio per contare per cercare dove si trova la persona successiva devo ricominciare dall'inizio find fa quello guarda dall'inizio della stringa quindi fa un mucchio di lavoro inutile in questo caso quindi qua in questo caso c'è poco da fare bisogna essere umili e dire se mi serve l'indice me lo calcolo anche in un ciclo for che iter sui valori mi può far comodo che iter sui valori se mi serve anche l'indice me lo posso calcolare a mano in parallelo come farei esattamente in un ciclo y inizializzo incremento semplicemente la condizione non mi serve perché viene già gestita dal ciclo in questo caso mi stamperebbe correttamente tutti gli indici delle stringhe come se stiamo stiamo giocando su variazioni sul tema per riuscire un pochino a fare amicizie su come funziona questa semplice istruzione for in realtà in realtà esiste una scorciatoia nel caso in cui ci serva ciclare il problema qual è scusatemi è che io qua ho come variabile di controllo l'indice e quindi tutte le volte devo passare dall'indice al carattere va bene qua avrei come variabile di controllo il carattere e quindi se mi serve anche l'indice se mi serve solo il carattere è fantastico se mi serve anche l'indice devo fare un lavoro in più così come qua se mi serve anche il carattere devo fare un lavoro in più perché ogni volta ho dato l'indice devo andarmelo a pescare se mi serve solo l'indice o mi basta lavorare sull'indice benissimo fare il while se mi basta solamente il valore benissimo usare il for se mi servono tutti e due esiste un trucco questo è un esempio che abbiamo fatto prima esattamente con il while e con il for e questa è la soluzione a cui siamo arrivati se ci serve sia indice che valore possiamo usare indifferentemente sia questa che quell'altra oppure esiste come dicevo una scorciatoia che è data dalla funzione enumerate la funzione enumerate prende un contenitore in questo caso una stringa e la spacchetta in una serie di coppie di valori indice valore indice valore quindi riesco a fare con questa funzione enumerate vuol dire aggiungici i numeri davanti un ciclo for unico che abbia una doppia variabile di controllo l'indice e il valore infatti vedete che qua che c'è scritto for non c'è scritto for i o for lettera c'è scritto for i virgola lettera e quindi ad ogni iterazione automaticamente lui fa avanzare la variabile di controllo che questa volta è duplice doppia l'indice e l'indice e il valore quindi alla prima iterazione i vale 0 e lettera vale la prima lettera la seconda iterazione i vale 1 e lettera vale la seconda carattere e così via perché la funzione numerate trasforma il contenitore in un elenco di coppie ad ogni iterazione restituisce una coppia di valori indice virgola valore quindi se mi serve possiamo usare questa terza forma che è for i virgola carattere in non più nella stringa ma in numerate di stringa a questo punto posso fare la mia stampa commentiamo questo qui nelle slide c'è una coppia di parentesi intorno a queste due variabili ma sono opzionali possono anche non mettersi anzi è più leggibile secondo me se non ci sono queste parentesi nel capitolo 6 quando faremo liste tuple capiremo cosa sta succedendo qua dentro ma per ora prendiamolo come una sintassi semplificata che mi dà ovviamente il valore ovviamente no mi dà il valore giusto dell'indice quindi ogni forma è equivalente semplicemente numerate cicla sul carattere ma in più mi dà anche l'indice punto esiste una quarta forma ancora sempre per stampare i caratteri di una stringa sembrava una cosa semplice noi ce la siamo voluta complicare è di usare noi abbiamo usato qua il ciclo for per ciclare sui caratteri o il ciclo while per ciclare sugli indici o il ciclo for e numerate per ciclare insieme su indici e caratteri ma potremmo usare un ciclo for per ciclare sugli indici cioè un ciclo for che faccia 0, 1, 2, 3, 4 sì usando la funzione range che abbiamo visto prima l'abbiamo intravisto prima nelle slide cioè la funzione range for i in range 10 ad esempio mi stamperebbe i numeri da 0 a 9 cosa fa questa funzione? prende il valore n 10 costruisce una sequenza di numeri che vanno da 0 fino a 10 escluso fino a 9 e questo lo trasforma in un contenitore iterabile su cui il ciclo for può iterare andando a estrarre ogni volta un singolo valore dimmi allora se io mettessi a stringa nome non funziona range vuole come argomento un intero per cui se lui scrive un nome lui dice che un oggetto di tipo stringa non può essere interpretato come un intero però qual è l'intero che mi serve? la lunghezza della stringa allora posso dargli non la stringa ma la sua lunghezza assolutamente sì length di nome allora lui così itera su degli indici i che vanno da 0 e itera su un contenitore che ha fatto dei numeri che vanno da 0 compreso fino alla lunghezza della stringa che è escluso che guarda caso sono proprio gli indici dei caratteri della stringa da 0 alla lunghezza meno 1 quindi questo costrutto qua si usa molto spesso se devo dichiarare sugli elementi di un contenitore per indice crea un range che va fino alla lunghezza del contenitore range e length sono spesso sposati insieme questo se vogliamo è quello che si avvicina di più al ciclo while semplice in cui ho l'indice i che controlla l'iterazione ma senza dovermi smaneggiare l'indice da solo e poi ovviamente se devo stampare il carattere dovrò andare a prendere il nome di i questa è una variante in cui ho solo l'indice non ho anche il valore quindi se mi serve due valori me lo vado a leggere dalla stringa ok si vedono tutte queste forme dimmi il numerate qui sotto quindi il numerate qua c'è la differenza è se io uso un range ho bisogno di indicare un numero che è la lunghezza il numero di elementi che voglio creare sulle numerate invece gli passo il contenitore non la lunghezza non ho capito questo qui fa esattamente la stessa cosa dell'altro cioè tutte queste versioni qua fanno tutte esattamente lo stesso lavoro ok questo lo fa creando un elenco di numeri che sono gli indici e stampando per ogni indice il suo valore e il carattere corrispondente questo lo fa nello stesso modo scusate quello del y lo fa nello stesso modo ma semplicemente l'indice anziché farlo generare da un range se lo crea lui un valore per volta questo idem questo invece ciclo sui valori e quindi lui il ciclo for mi dà già i valori uno per volta e poi io in parallelo mi vado a ricostruire l'indice l'ultima forma è una forma diciamo così più ricca di questo in cui anziché dovermi costruire l'indice a mano me lo costruisce la funzione numerate tu vuoi mettere no tu vuoi scrivere questo no non funziona perché in questo caso se tu facessi così cioè l'enumerator restituisce delle coppie di valori e quindi io devo iterare su delle coppie di valori se io mettessi così non funzionerebbe perché dentro la variabile i ci andrebbe a finire la coppia e invece della coppia mi interessa solamente l'indice e non il valore quindi così non funzionerebbe idem dentro ch finirebbe la coppia fatta di due valori e quindi dovrei andare a prendere ch di 0 ch di 1 c'è il primo elemento e il secondo elemento queste cose le vedremo ma non ci diciamo così è inutile se mi serve solo il valore ho già il ciclo for se mi serve solo l'indice ho il for in range solo se mi servono entrambi vado a scomodare il numerate ok indice virgola valore quindi queste grossomodo sono le 4 varianti che ci si trova in giro del ciclo for dipende un po' cosa ci serve sul momento ricordandoci sempre che zio while è sempre lì è sempre il caso generale cicli for sono un caso particolare dei while che si possono sempre costruire la modello mentale di numerate se volete ce l'abbiamo su questa slide qua in cui dice da una stringa mi costruisce tante coppie di valori e però nell'interazione io devo andare a staccare l'indice e metterlo dentro una variabile e staccare il valore e metterlo dentro un'altra variabile quindi mi serve iterare sempre su due variabili insieme e così come l'altra slide che volevo commentarvi è questa in cui ricordiamoci sia quando impostiamo dei cicli y sia quando impostiamo dei cicli con il range che è la stessa cosa la cosa più comoda è sempre ragionare pensando che il punto di partenza è compreso e il punto di arrivo è escluso che è poi quello che fa range è quello che fa le slice quello che succede sempre in python così vale la regola ci diamo una regola sola da usare sempre punto di partenza sempre compreso punto di arrivo sempre escluso il che vuol dire che posso creare un range il che vuol dire che se ho una condizione devo mettere minore e non minore uguale il che vuol dire che se seguo questa regola è facilissimo sapere il numero di iterazioni perché basta fare b-a perché altrimenti potrebbe essere se io avessi un minore uguale qua il numero di iterazioni sarebbe b-a più 1 e quel più 1 è un invito a nostre per i bacchi di programmazione perché ti dimentichi il primo elemento l'ultimo il penultimo e ti vai a incasinare quindi ce lo gestiamo come vogliamo ma il modo più liscio di fare le cose è usare questi diciamo così template di base dopodiché non c'è molto di più da dire se non vederlo in pratica e in pratica lo possiamo vedere provando a fare questo esercizio qua che è il primo di quelli che ho citato è uno di quelli che ho citato nei link che vi ho mandato ieri sera credo cioè proviamo a stampare una tabella con le potenze dei numeri interi allora questo va a agganciarsi come sempre per me un esercizio è sempre una pretesta per spiegare qualcosa di nuovo ma a agganciarsi è una cosa che avete già visto in realtà nella lezione di lunedì cioè il fatto che una volta che ho capito come funziona un ciclo è normale dover gestire cicli che sono all'interno di altri cicli l'avete fatto in modo molto naturale io vado a prendere ad esempio l'esercizio sul dove è andato la prova del 9 dove avevamo due cicli uno più interno che andava a estrarre le singole cifre del numero e poi le sommava e poi quello più esterno che diceva guarda che però se quando ho fatto queste somme la somma è ancora maggiore di 9 devo ripetere devo rifarlo ad oltranza fino a quando questa somma è minore di 9 poi devo sempre fare attenzione a cosa fosse string a cosa fosse intero in quel caso lì ma vabbè l'abbiamo gestito quindi non ci siamo granché scomposti quando abbiamo visto che dentro un while ci poteva stare dentro un while o dentro dentro un ciclo while ci poteva stare una serie di if tutti questi costrutti si combinano tra di loro liberamente basta solo che non ci confondiamo ma in particolare quando parliamo di cicli annidati costruiamoci un po' un modello mentale in cui questi un ciclo annidato è un ciclo completamente inserito dentro un altro ok e questo ciclo ad esempio della linea 15 lo collasso solo perché riuscire a vedere tutto dal punto di vista del ciclo più esterno è un'istruzione unica quindi io arrivo qua faccio questo faccio questo poi faccio il while poi faccio il numero uguale e poi itero io sono in ciclo a riga 10 vedo sotto di me 4 istruzioni una di queste istruzioni a sua volta è un ciclo while e quindi quando entro qua in realtà lei farà tutto il suo lavoro qua dentro 1, 2, 3, 4 volte quanto serve quante sono le cifre del numero quindi per fare una singola iterazione del ciclo più esterno devo fare tutte le iterazioni del ciclo più interno poi alle iterazioni successive del ciclo più interno arrivo qua rifarò di nuovo tutte le iterazioni del ciclo più interno che in questo caso sono maggiormente diverse perché il numero nel frattempo è cambiato ma vabbè quindi è un po' come le 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 rotelle del tachimetro dell'auto tu hai la rotella dei chilometri che è davanti a una certa velocità poi ogni tanto quando arriva al 9 fa uno scatto la rotella delle decine di chilometri quando ha dei cicli nei dati i cicli interni sono quelli che vanno più veloci e quando il ciclo interno ha finito un giro va avanti di un'interazione al ciclo più esterno ok il ciclo interno è come fosse una lancetta dei secondi che fa un giro intero allora quel punto scatta di un minuto allora è andato avanti di un passo la lancetta dei minuti che quella esterna e se avessi tre cicli annidati sarebbe come fare i secondi minuti le ore cioè ogni volta che ho dei cicli annidati uno dentro l'altro più è esterno il ciclo più va lento e per fare un singolo passo nel ciclo esterno quello interno deve aver fatto tutta la sua iterazione ok quindi questo è un pochino quando vediamo dei cicli annidati vediamoci proviamo a immaginarceli così uno che gira veloce l'altro che gira più piano e ciò che fa andare avanti quello esterno è il fatto che quello interno abbia finito il suo lavoro allora proviamo ad applicare queste idee all'esercizio delle potenze io qua ho semplicemente ricopiato il testo quindi non ho ancora fatto niente devo stampare una cosa di questo genere allora la cosa più facile che ho è calcolare la potenza se mi chiedi quanto fa 8 alla terza magari non chiedermelo a bruciapelo perché la mente è fatico ma in python so scrivere 8 se rischio spedisco 3 bene questa è un'operazione che dovrò ripetere tante volte per tanti valori della base ogni riga ha un valore diverso della base e per tanti valori dell'esponente ogni colonna ha un valore diverso dell'esponente allora come posso costruire questa cosa beh visto che la devo stampare la devo stampare una riga per volta ok quindi io il primo livello di ragionamento che faccio su questo è stampa una riga per volta poi ci aggiungiamo dettagli una riga per volta con le potenze ovviamente poi ci dovrò stampare davanti l'intestazione no l'intestazione sono queste due righe qua tre righe qua ma ci pensiamo dopo dai è una cosa estetica stampa una riga per volta con le potenze una riga quindi dovrò stampare la prima riga e poi ci penso come farlo poi dovrò stampare la seconda riga e ci penso come farlo e così via quante righe ho e che cosa rappresenta ciascuna ogni riga rappresenta il valore diverso della base no del numero da elevare la potenza 4 rappresenta la riga tutte le potenze del 4 e quante righe ho sono quanti sono i valori diversi della base allora il testo mi dice il programma deve leggere il numero n che è il numero di righe e il numero m che è il numero di colonne cioè di potenze quindi ci sarà una prima fase ancora in cui definisci il numero di righe e di colonne quindi ci sarà un n uguale int di input di righe e un m che è un int input colonne ma visto che non vogliamo annoiarci troppo mettiamo n uguale 5 m uguale 3 poi metteremo gli input quando il programma è finito ma per testarlo mettiamo dei valori costanti così evitiamo ogni volta di dover inserire a manina i numeri allora n è il numero di righe e le righe sono le potenze le basi scusami mentre le colonne sono le potenze allora stampa una riga per volta con le potenze vuol dire che questa stampa di una riga la devo ripetere tante volte quanti sono le basi quindi per ciascuna base stampa una riga con le potenze di quella base ho detto una banalità se devo stampare dieci righe stamperò dieci volte una riga mi sono ricondotto da un problema stampa una tabella ha un problema ripeti dieci volte la stampa di una riga e ho fatto un passo avanti cosa vuol dire questo adesso lo facciamo poi stampa una riga a sua volta non è un'operazione atomica istantanea bisognerà a sua volta decomporla ma però per ora cominciamo a fare questo per ciascuna base cos'è la base? sarà il numero di riga 1,2,3,4 fino a 10 se io ho letto n quali sono quali sono le basi e sono tutti i numeri che vanno da 1 a n da 1 a n l'utente ha inserito 5 vuole 5 righe che sono le potenze dell'1 del 2 del 3 del 4 del 5 e noi diciamo ma no ma dovresti dire da 0 in avanti e no io voglio da 1 perché l'utente vuole da 1 quindi le basi poi decidiamo noi che indici usare ma di sicuro ogni riga dovrà corrispondere a un numero intero partendo da 1 le potenze dello 0 dicono in giro che non sono molto interessanti quindi io sto impostando un ciclo in cui ho una variabile che posso chiamare base che va da 1 a n e nel corpo di questo ciclo ci sarà l'istruzione di stampare una riga quindi semplicemente faccio for base in range 1 n più 1 ho bisogno di una variabile intera che parte da 1 e si incrementi ogni volta fino a quando non arriva a n compreso la parte da 1 è la parte iniziale del range la parte finale del range sarà il primo valore escluso che quindi n più 1 se voglio ottenere n compreso se mettessi n lui si fermerebbe n meno 1 che non va bene e a questo punto io stampo una riga in cui dico che ci sono le potenze della base base e quando faccio il run viene bellissimo perché mi dice potenze della base 1 potenze della base 2 potenze della base 3 potenze della quale 4 potenze della base 5 usa la tua immaginazione per vederti le potenze beh no aspetta è un punto di partenza ok questa print chiaramente è fittizia è fake ma ci fa capire che noi stiamo contando le righe e le righe valgono la base la base del numero delle varie potenze ma a questo punto mi chiedo cosa vuol dire stampare una riga con le allora questo per volta qui mi viene quasi da cancellarlo no? è ovvio che stampo una riga per volta cioè non è che il programma fa tre cose insieme io stampo una riga e il fatto che ne faccio uno per volta è il fatto che sono dentro un ciclo che me ne consegna una per volta quando Python esegue questa riga qua lui non sa e non vuole sapere se questa è l'unica riga che stampera mai o fa parte di una sequenza di 100 quindi questo per volta qua è una precisazione che non serve al corpo del ciclo sapere lui che è dentro un ciclo o no cioè qui alla fine devo stampare una riga quando io decompongo un problema in problemi più piccoli quando sono nel problema piccolo mi devo dimenticare del problema grande se no non ho semplificato nulla a me è andato il compito di stampare una riga perché? senti mi è andato il compito di stampare una riga perché lo so prendono loro non devo chiedermi se questa riga è l'unica la prima se ne sono tante mi hanno detto stampo una riga è la base 7 io stampo le potenze del 7 ok? poi il fatto che questa stampa le potenze vada ripetuta più volte ci penserà qualcun altro è responsabilità del ciclo più esterno allora cosa vuol dire stampare le potenze della base 3? significa prendere i vari esponenti calcolare la potenza e stamparli uno per uno ok? quindi vuol dire che vado a valutare ciascuno degli esponenti da uno a m di nuovo partendo da uno ad esempio parte da uno scusatemi x alla uno non c'è x alla zero e quindi devo partire da uno e per ciascuno di questi esponenti calcola e stampa base elevato esponente di quella base e di quell'esponente a me poi non piace tanto la parola valuta detta a un calcolatore dicendo ma valuta un po' tu no io non valuto niente non capisco niente non penso niente quindi prendi ciascuno degli esponenti io devo dire cosa fare non cosa pensare perché tanto pensare non è capace considera considera già troppo qui ho detto brutalmente per ciascuna base qui avrei potuto scrivere brutalmente per ciascun esponente alla fine un modo per dire in italiano qua ci vuole un ciclo perché gli esponenti sono tanti e li devo considerare uno per uno quindi qua avrò un ciclo sugli esponenti for esponente in range da uno a m più uno escluso due punti giusto? e quindi qui potrò stampare che la base base elevata a esponente fa calcoliamolo fuori potenza uguale base elevato esponente fa potenza quindi io qua sono dentro questo ciclo for che ha una missione stampare una riga con le potenze di quella base quindi in questo in tutta questa parte qua base è una costante non sta cambiando è un valore che mi hanno dato che poi cambierà la prossima iterazione ma finché sono nel corpo di quell'iterazione la base non cambia e quindi data quella costante che poi vedete che uso qua dentro e uso qua dentro è un valore che ho che vedo ci faccio cose ripetute al variare di un'altra variabile che non c'entra niente l'esponente e come vediamo se facciamo a run di questo mi scrive potenza della base 1 la base 1 elevato a 1 fa 1 la base 1 elevato a 2 fa 1 1 elevato a 3 fa 1 potenza della base 2 2 elevato a 1 fa 2 2 elevato a 2 fa 4 2 elevato a 3 fa 8 3 elevato a 1 fa 3 3 elevato a 2 fa 9 eccetera questa è la tabella che volevamo vabbè esteticamente non è proprio uguale ma i numeri ci sono poi dobbiamo mettere a posto l'estetica ma i numeri li abbiamo calcolati giusti e quello che si vede è base 1 base 1 base 1 base 2 base 2 base 2 base 3 vedete che la base va avanti lentamente rimane ferma e finché la base rimane ferma l'esponente 1 2 3 1 2 3 1 2 3 fa tutto il giro 1 2 3 l'esponente aumento di 1 la base 1 2 3 l'esponente aumento di 1 la base e così via la base è il ciclo più esterno l'esponente è il ciclo più interno e infatti va più veloce avrei tranquillamente potuto scambiare base con l'esponente e avrei avuto invece le stampe al contrario con la base che rimane che varia rapidamente con l'esponente quindi avrei tutto 1 alla 1 2 alla 1 3 alla 1 4 alla 1 5 alla 1 tenendo l'esponente fermo e facendo cambiare le basi poi incremento l'esponente avrei 1 alla 2 2 alla 2 3 alla 2 4 alla 2 5 alla 2 cambiando le basi e tenendo fermo l'esponente e così via semplicemente se avessi scambiato tra di loro i due fori quello interno e quello esterno ma in questo caso non mi conviene perché poiché li devo stampare uno dopo l'altro questi numeri mi serve di stampare prima tutti gli esponenti della stessa base e poi vado a capo tutti gli esponenti dell'altra base quindi questo è il comportamento base naturale diciamo così dei cicli annidati ho un ciclo esterno che governa una variabile un ciclo interno che governa un'altra variabile che si muove più velocemente e nel corpo più interno io posso normalmente usare tutte le variabili di controllo dei cicli che sono dentro i miei contenuti che mi contengono dentro cui sono contenuto dimmi si esatto no esatto allora lui dice quando io scrivo for e do un nome di una variabile quella variabile viene creata viene inizializzata si nel ciclo while invece no perché nel while indico solamente una condizione che deve lavorare con delle variabili già esistenti quindi in più il for si crea lui la sua variabile di controllo del ciclo la variabile che tra l'altro rimane anche dopo la fine del for è come se l'avessimo creata invece con il while devo crearla esplicitamente al di fuori del ciclo ricordate la volta scorsa buona osservazione mi permette di ricordarci che la volta scorsa ho detto attenzione che tutte le volte che abbiamo un ciclo servono quattro cose inizializzare la variabile testarla incrementarla e poi vabbè il corpo del ciclo stesso ecco l'istruzione for mi fa in un botto solo le prime tre inizializzare la variabile la testa la incrementa e quindi non devo fare c ma è nascosto dentro la f la o la r di for e quindi una variabile nuova se per caso avessimo già una variabile che si chiama esponente viene sovrascritta chiaramente non è vietato riusarla ok allora questo calcola la cosa giusta calcola i valori giusti li calcola nell'ordine giusto li stampa nel modo sbagliato beh innanzitutto ci sono tante stampe che non servono a niente perché alla fine noi dobbiamo stampare i numeri nudi giusto? solamente i numerini allora cominciamo a mettere i numeri nudi quindi togliamo questa stampa delle potenze togliamo sta frasetta qua e alla fine dobbiamo fare semplicemente print di potenza quindi ho tolto le print e ho messo solamente una print qua dentro quindi non ci sono più messaggi o semplicemente i numeri come ho detto con rispetto parlando nudi adesso sono lì ma non sono incolonnati da adesso in avanti stiamo parlando di estetica di formatazione non c'è più niente di algoritmo per ottenere la tabella che volevamo prima cosa dobbiamo avere? dobbiamo avere innanzitutto i numeri sulla stessa riga le varie potenze sulla stessa riga finora noi non siamo capaci a farlo perché l'istituzione print va a capo dopo che ha stampato qualcosa noi saremmo capaci di stampare più numeri sulla stessa riga se usassimo una print sola una print sola per tutti i numeri della stessa riga ma non ce l'ho una print sola perché la print ad ogni interazione mi calcola un singolo numero non li ho mai tutti insieme questi numeri da stampare ma questo non è un problema perché basterà dire alla funzione print di non andare a capo questa funzione print qua la funzione print ha oltre ai valori da stampare ha un paio di parametri opzionali che ci permettono di controllare meglio che cosa fa in particolare c'è un parametro opzionale che si chiama end se riesco a scriverlo perché non è difficile scrivere end il parametro end vediamo la documentazione dice è la stringa che viene appesa dopo l'ultimo valore stampato per default un carattere di a capo questa documentazione di print mi sta dicendo guarda che normalmente quando tu fai print la funzione print stampa tutto quello che tu hai deciso di stampare va bene e poi di suo ci aggiungi un carattere di a capo ciò che ci aggiunge di suo però lo puoi cambiare col parametro opzionale end quindi se io voglio posso dire dopo che hai stampato tutto non mettere un a capo non mettere niente cioè basta che io come end gli metta una stringa vuota posso anche mettere un cuoricino se vuoi se gli metto la stringa vuota rifaccio il run del programma vedo questa bellissima cosa è bellissimo soggettivo cioè i numeri li ho stampati tutti uno appiccicato all'altro perché lui ha stampato l'uno vedete prima la differenza prima ha stampato l'uno e poi andava a capo poi stampa l'altro uno e poi va a capo poi stampa l'uno e poi va a capo io gli ho detto senti stampa uno e poi anziché mettere i caratteri a capo non mettere niente e lui obbedito e non ha messo niente adesso è un po' troppo denso no? ma possiamo cambiare volendo diciamo mettimi uno spazio si dicono di mettere uno spazio lui gli stampa i numeri e dopo ogni numero stamperà anche uno spazio se voglio mettere un asterisco gli metto un asterisco adesso stiamo facendo delle prove così tanto per vedere e lui ce lo mette se invece voglio mettere l'asterisco e poi andare a capo gli metterò anche i caratteri a capo quindi aggiungo l'asterisco e poi va a capo cioè sono io che controllo tramite il parametro end cosa separa la fine di una print dall'inizio della print successiva e viene aggiunto in automatico allora a me sta tanto bene che non aggiungere nulla però magari questi numeri qua non li vogliamo tanto appiccicati diamoli un po' di spazio ma questo in realtà lo sappiamo già fare con la formattazione possiamo dire guarda questo qua è un numero decimale e diamoli 5 caratteri l'ho creata già come fstring all'inizio perché così posso cambiare se io rifaccio questo mi stampa più spaziati lui mi stampa il numero usando 5 caratteri quindi in questo caso l'1 ci saranno 4 spazi davanti e poi l'1 poi non ci aggiunge niente in mezzo e all'interazione successiva del ciclo più interno ci metterà un altro numero che in questo caso ancora a sua volta occupa 5 caratteri quindi 4 spazi più il simbolo e così via fino a quando arriva che ne sono al 25 dove stamperà 3 spazi e 2 cifre questo è ciò che fa l'fstring quindi sto stampando questi numeri qui con il spazio e poi evito di andare a capo e quindi mi stampa tutti sulla stessa riga adesso va bene nel senso che sono riuscito dimmi allora sì lui dice se io devo stampare delle potenze che abbiano più di 4 caratteri gli si appiccicano di nuovo i numeri sì devo dimensionare questa spaziatura in modo sufficientemente generoso vuoi mettere scusami un tab ma è la stessa cosa perché un tab è lungo 8 caratteri è come mettere 8 qua però se non ti basta 8 se ci sono alcuni corti altri lunghi non lo so quindi no allora bisognerebbe per riassumere la discussione che ho avuto con lui qua chiaramente bisogna mettere un valore che sia sufficientemente ampio da poter rappresentare il numero più grande che dovremmo stampare ok più uno perché c'è ancora uno spazio per lasciare ancora almeno uno spazio lui suggeriva di usare i caratteri di tabulazione il tab che di fatto allinea il testo fino al prossimo multiplo di 8 delle colonne però purtroppo non funzionerebbe bene se ci fossero alcuni numeri che sono più brevi di 8 caratteri altri di più perché alcuni salterebbero due salti di tabulazione e altri uno solo quindi non garantisce la separazione ma non l'allineamento c'è un'altra domanda? in N mettere? 4 spazi? e non sono sempre 4 spazi perché qua sono solo 2 cioè in N posso mettere 4 spazi e non mettere nulla nel numero ok? certo lui mi mette un numero fisso di spazi tra un numero e l'altro che non dipende dalla dimensione del numero quando poi li andrò a incolonnare quindi i numeri più lunghi si disallineano non so se lo vedete quindi io devo fare in modo che lui stampi il numero di spazi adeguato affinché ciascun numero occupi lo stesso spazio fisico sullo schermo e quindi aggiungere spazi quanto basta e non fissi è per questo che uso la formattazione che è più comoda cioè fa fa quello per mestiere poi qua volendo posso aggiungere uno spazio di più eh di buona misura perché no ok allora adesso il problema che ci rimane è siamo ucciti a scrivere i numeri di fila ma adesso sono tutti di fila e invece alcuni devono alcune volte dovrò andare a capo quando è che devo andare a capo? quando ho finito tutti gli esponenti no? e quindi dovrò qui stampa un numero senza andare a capo e poi dovrò andare a capo qui l'ho indentato sotto il foro esponente perché deve essere fatto dopo che ho stampato tutti gli esponenti vado a capo come si fa andare a capo? basta stampare print senza niente print senza niente cosa fa? stampa niente giustamente e poi ci aggiunge il suo carattere end di default che è la capo quindi facendo così mi stampa i numeri abbastanza incolonnati perché non riesco mai andare dove voglio io questa ok attenzione dove ho messo la print l'ho messa dentro il ciclo esterno fuori dal ciclo interno e vediamo subito perché se io la mettessi dentro il ciclo interno andrebbe a capo dopo ogni singolo numero non va bene se la mettessi dopo il ciclo esterno quindi allo stesso livello del ciclo che inizia la riga 34 andrebbe a capo una volta sola in fondo invece mi serve proprio alla fine di ogni riga è un po' come dire per stampare per stampare una riga devi stampare ogni esponente ogni potenza senza andare a capo e poi terminare la riga terminare la riga significa andare a capo quindi è dentro la stampa della riga l'operazione di andare a capo stampa una riga con una potenza di questa base vuol dire stampare le singole potenze senza andare a capo e poi andare a capo adesso che questa funziona possiamo provare ad allargarci anziché 5 e 3 possiamo mettere 10 e 6 vediamo cosa esce esce che 5 caratteri erano pochi ovviamente se io faccio 10 alla sesta allora l'allarghiamo 10 alla sesta sono 7 caratteri più 1 8 giusto? giusto un milione sono 7 caratteri dimmi sì sì allora quello che sta dicendo lui è al posto di questo numero per far sì che sia che funzioni sempre dovrei mettere un valore che è calcolato sulla base del massimo numero che devo stampare allora questo si può fare ci servono due cose uno capire qual è l'espressione da calcolare che ti dica qual è il numero più grande e la sua lunghezza ok? pensate di un attimo non ve lo dico due è capire immaginiamo che avere x questa lunghezza come fare come fare a usare una variabile al posto di questo allora è facile perché basta aggiungere un altro paio di parentesi graffe quindi diciamo così lung uguale 8 supponiamo che è la lunghezza che ci serve adesso adesso l'ho calcolata costante ok? se anziché mettere il numero 8 volessi mettere il valore della variabile lung al posto dell'8 metto lung ma tra parentesi graffe e continua a valere la regola dell'interpolazione quando vede una parentesi graffa va a prendere il valore della variabile che poi usa a sua volta dentro un'altra parentesi graffa e va bene saranno bene fatti suoi quindi in questo caso è l'8 se io volessi cambiarsi questa variabile lung lo facessi diventare 12 in automatico mi dà più spazio in automatico non esiste niente l'ho deciso io quindi sull'fstring è possibile dove ci sono i valori numerici utilizzare delle variabili semplicemente richiamando le tagraffe però qui stiamo entrando nella nei dettagli dei dettagli quindi lasciamo magari 10 via ok quindi qua abbiamo fatto tutto tranne stampare ancora l'intestazione e l'intestazione sono anche qua tre righe da stampare che dipenderanno solamente da M non da N cioè dal numero di colonne non posso stampare le costanti non posso fare print aperta virgolette x spazio 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 x spazio spazio perché non so quante sono quindi dovrò anche qua avere la prima riga per stampare la prima riga che sono gli esponenti avere un ciclo in cui stampo uno per uno i singoli esponenti poi la seconda riga sono le x devo avere un ciclo in cui stampo tante volte x numero opportuno di volte m volte e poi avrò i trattini in cui dovrò stampare tanti trattini quindi vabbè con tanta pazienza lo facciamo la parentizzazione la prima riga gli esponenti quindi avrò un ciclo che ciclo sugli esponenti che è lo stesso ciclo di prima in cui stampo l'esponente direi con lo stesso formato 10d mettiamo lungo già che l'abbiamo fatto end uguale niente e poi alla fine di questo ciclo devo andare a capo si in un altro modo facciamo gli esponenti vediamo se è giusto allora qui ho stampato questa riga in più che non c'era con gli esponenti per come li ho messi io sono venuti fuori incolonnati con i numeri perché in realtà ho riusato la stessa stringa di formato vedete esponente 10d e prima avevo potenza che era 10d è giusto che siano incolonnati così vediamo l'esempio come era messo e si guarda con la sua stessa colonna poi devo stampare le x cioè la stessa cosa ma devo stampare ogni volta una x messa lì in mezzo allora torniamo qua quindi la seconda riga le x allora posso fare la stessa cosa qua se vogliamo e stamperò semplicemente dunque una x per lo stesso numero di caratteri no questo è brutto da vedere scusate facciamo così questo funziona cosa devo fare allora vediamo un attimo cosa devo stampare devo stampare se il mio spazio era 10 dovrò stampare 8 spazi una x e uno spazio giusto perché la x deve essere leggermente spostata 8 spazi una x e uno spazio quindi posso avere spazio per 8 x più la x più la x tra virgolette e poi uno spazio per dire quindi faccio 8 spazi uno spazio moltiplicato per 8 più altri due caratteri che arrivano a 10 che sono fatti da una x più uno spazio e viene fuori così qui ho messo 8 perché 8 in realtà la posso calcolare da 10 meno 2 quindi se poi cambiassi la lunghezza posso mettere l'un meno 2 ovviamente fa sempre 8 ma se cambiassi l'un devo sempre fare 2 in meno perché poi ho la x e lo spazio che fanno la somma cosa rimane? rimane la riga con le x ma è facile a questo punto i trattini basta fare una print di un trattino per quante volte? M per l'1 con 60 trattini se devo fare fino a 6 colonne ogni colonne sono 10 trattini per 6 eccole qua quindi sto usando la moltiplicazione di stringhe per andare a ripetere facilmente un certo carattere quello che suggeriva un di voi qua in questa zona diceva ma in realtà qua non servirebbe neanche fare un ciclo perché basterebbe prendere ciò che devo stampare una volta che è questo questo è il messaggio che devo stampare una volta e devo stamparlo in realtà m volte quindi questa qui a sua volta è una stringa e la moltipico per m volte le parentesi non c'entrano questa qua immaginatevela come no ci vuole una parentesi aperta non chiusa questa parentesi qua immaginatevela se volete potete salvare una stringa no? la chiamiamo x con gli spazi uguale a questa roba qua qui stampero x con gli spazi per m volte quindi m volte poiché per fortuna si ripete identica basta costruire la stringa una volta e ripetala m volte e avviamo ovviamente lo stesso risultato di prima quindi se vogliamo in quest'altra variante abbiamo risparmiato due righe di codice d'altro canto l'abbiamo dovuta pensare da zero mentre quella di prima è stata facile perché bastava copiare quella sopra e cambiare il contenuto quindi non so cosa ci è costato di meno dal punto di vista cognitivo ok? allora come sempre qui abbiamo lavorato un pochino a livello di algoritmo era semplice ma ci è servito per impratichirci con i cicli annidati soprattutto quando sono cicli forti dimensioni fisse numero di righe fisso numero di colonne fisso che non dipende dal numero di righe ci danno mentalmente un'idea di matrice quadrata matrice rettangolare scusate in cui ho varie caselle una per volta finisco la prima riga inizio la seconda e così via quindi anche mentalmente quando vediamo due cicli forti io mi visualizzo non l'interazione in sequenza ma l'interazione su una matrice bidimensionale e qua è visibile perché la stiamo proprio stampando e poi abbiamo faticato un po' per far sì che le cose dal punto di vista estetico quadrassero andando a giocare di nuovo un po' con le string la formatazione le opzioni della print se non le cose pochino meno diciamo con componente algoritmica bassa ma più che altro dettaglio di conoscenza del funzionamento della funzione ok su questo sì adesso ve lo metto poi tutto ok allora io farei a questo punto visto che l'uno ha una pausa riprendiamo all'1.20 puntuali